Benvenuti all'appuntamento con Voto in Comune, l'approfondimento politico in onda su MTV, canale 89 e Radio Nuova Macerata. Ospite con me in studio c'è la professoressa Mirella Paialunga che è il candidato sindaco del centro-sinistra a Civitanova Marche per le amministrative del 12 giugno. Benvenuta. Grazie. La prima domanda per lei è perché questo passaggio, questa scelta dalla scuola alla politica per candidarsi come primo cittadino di Civitanova? È stata una scelta molto ponderata ma ho deciso di rispondere a una richiesta che mi è venuta da molti amici della coalizione di centro-sinistra con i quali abbiamo pensato di cominciare a ragionare molti mesi fa sulle necessità di modifica della situazione attuale civitanovese e quindi sono iniziati dei lavori di gruppo insieme a persone esperte, competenti, perché la nostra intenzione era quella proprio di innovare ciò che di non corretto e non giusto c'è a Civitanova. E quindi poi alla fine di questi incontri, di queste discussioni, ho accettato la proposta di fare da sintesi rispetto alle tante proposte che venivano dalle diverse liste che fanno parte dell'attuale mia coalizione. A proposito di coalizione le chiedo una presentazione della coalizione che la sostiene, oltre al PD assente 5 Stelle, c'è stato anche questo ricorso in attesa di sapere l'esito del Tar per la lista dell'ex sindaco di Civitanova Tommaso Corvatta, quindi sei liste. Sì, sei liste, ma il Movimento 5 Stelle non c'è mai stato nella coalizione di centrosinistra, quindi è uscito prima ancora che noi facessimo l'accordo, quindi non lo nominerei affatto perché non fa parte della nostra coalizione. La coalizione è nata insieme a sei liste, il PD in primo luogo, il Partito Democratico e altre liste civiche e un movimento regionale. Le altre liste civiche sono La Nuova Città che fa capo a Piero Gismondi, Futuro in Comune che fa capo a Tommaso Claudio Corvatta, Dipende da noi che è un movimento regionale il cui capolista è Roberto Mancini, Civitanova Cambia con Pierpaolo Rossi e una lista giovanissima che mi sostiene ed è la lista Ascoltiamo la città, Mirella Paglialunga sindaca. Quindi sono sei liste così come si erano proposte all'inizio del nostro accordo. La sua riflessione sui cinque anni di questo primo mandato di Fabrizio Ciarapica e della sua giunta? Allora, la riflessione non può che essere negativa. Parto da una considerazione. In questi giorni il sindaco Ciarapica sta facendo una campagna elettorale di promesse come se fosse per la prima volta candidato. Non ha invece fatto il resoconto di ciò che ha realizzato e su questo bisognerebbe discutere, bisognerebbe confrontarsi pubblicamente. Purtroppo le iniziative che in questi cinque anni il sindaco Ciarapica ha tentato di realizzare sono sempre state iniziative che la città ha sempre contrastato. Ha sempre contrastato con forza tanto da raccogliere anche molte firme. Mi riferisco al porto Dubai, mi riferisco al parcheggio sotto al barco e ad altre situazioni come per esempio le lottizzazioni in zona agricola di Costa Martina che hanno sempre riscosso tanto dissenso. Quindi credo che Ciarapica onestamente dovrebbe prima di promettere cose per il futuro rendere conto del perché tante iniziative che lui ha promesso e promosso sono fallite e perché quelle iniziative sono state portate avanti comunque nonostante il dissenso della cittadinanza. La nostra coalizione intende proprio fare questo, ascoltare la città e dare risposte ai bisogni reali delle persone e non ai bisogni portati avanti finora da Ciarapica per tutelare interessi non dai cittadini ma interessi di altri. Quindi rispetto a Ciarapica in particolare io critico la mancanza di partecipazione, la mancanza di apertura verso la città, la mancanza di colloquio e la mancanza di trasparenza. La nostra coalizione rinnoverà il metodo partendo proprio da questo esempio negativo del sindaco Ciarapica. Qual è la sua visione di Civitanova? Quali sono le priorità per Civitanova all'interno del suo programma politico elettorale e anche i grandi temi? Allora sono tanti i temi perché purtroppo Civitanova ha perso dei treni in questi anni e deve recuperare, probabilmente anche recuperare a fatica ma di fretta perché è lacunosa da molti punti di vista. Nel nostro programma noi abbiamo puntualizzato l'attenzione su dieci temi caldi, su dieci grandi contenitori. Il primo, come accennavo prima, è la modalità di amministrare. Al primo posto noi mettiamo la partecipazione, la trasparenza e soprattutto la rappresentatività di tutte le forze economiche, sociali e associative in tavoli di concertazione perché vorremmo proprio rovesciare la modalità decisionale del sindaco. Non decide con la giunta ma decide con i cittadini. E quindi verranno realizzati tavoli di concertazione finalizzati ad affrontare specifici problemi e specifiche tematiche. Ma ci sono altre questioni emergenti. Penso per esempio al traffico e al modo di presentare la città ai turisti che in tanti arrivano a Civitanova. Purtroppo Civitanova dal punto di vista delle infrastrutture, dei servizi è bloccata e su questo punteremo l'attenzione. Inevitabilmente partendo dal cuore della città senza trascurare però i quartieri che sono totalmente abbandonati anche per i servizi più elementari. Quindi la riforma del traffico, la possibilità di attivare dei parcheggi scambiatori vicino al centro, la realizzazione di parcheggi scambiatori anche per il centro storico, il borgo storico cittadino Civitanova Alta e la valorizzazione delle dimore storiche che ora risultano non solo abbandonate ma trattate con incuria addirittura per magazzini dell'ente locale. Altre priorità? Ma altre priorità ne sono molte. Allora intanto partirei da un altro punto importante, i servizi alla persona. Civitanova è una città ricca, è una città forte, è una città imprenditoriale ma convivono con questa realtà anche problematiche gravi e grandi riferite alle nuove solitudini, riferite alle persone anziane, riferite a persone con bisogni educativi speciali. Civitanova non è sufficientemente accessibile per loro Civitanova non è sufficientemente dotata di servizi alla persona dislocati nei quartieri e Civitanova non è sufficientemente attenta al decoro e anche alla sensibilità delle persone. Basti pensare al modo con cui l'amministrazione Ciarapica ha gestito i finanziamenti per le famiglie in difficoltà durante il periodo del Covid, facendo fare in piazza alla fila le persone in attesa di entrare nel palazzo, quindi sotto alla luce del sole, dichiarate tutte le difficoltà delle persone. Questo ecco, noi vorremmo tornare ad essere una città sensibile, vicina alle persone e le esigenze di ciascuno. Ma Civitanova per noi deve essere anche una città verde, una città che insieme al mare qualifica e valorizza il suo verde e la modalità di vivere nella città, le vie con una modalità di benessere. Per questo pensiamo di facilitare il collegamento fra i quartieri realizzando delle ciclovie o delle piste ciclabili su carreggiata per favorire l'uso della bicicletta o mezzi sostenibili per incontrare le persone dei diversi quartieri. Un'altra innovazione grande che vorremmo attivare è relativa al turismo. Allora, per questo tema sembra che l'amministrazione giarapica proprio non riesca a capire che il mondo è cambiato, che le persone si spostano e vengono nella nostra città perché hanno bisogno anche di avere un'informazione in tempo utile. Da noi non esiste un cartellone delle iniziative estive, eppure siamo a giugno, eppure sono già arrivati degli ospiti, sono già arrivate persone nei bed breakfast che non hanno nemmeno un misero debiant informativo di ciò che avverrà nel mese di luglio o di agosto. Quindi rispetto al turismo io approvo totalmente i suggerimenti che sono venuti dai balneari, dagli operatori economici della città che sollecitano degli accordi con l'amministrazione comunale per realizzare un piano programmatico chiaro e pubblicizzato almeno una volta l'anno proprio per rendere le iniziative turistiche o culturali civitanovesi stabili, permanenti e soprattutto visibili con un tempo adeguato a far organizzare gli operatori economici per offrire il meglio di quello che loro possono offrire. Chiaramente su questo tema ci sarebbe anche tanto altro da dire, Civitanova deve diventare città accogliente per i turisti e per i cittadini non puntando solo ad alcune iniziative o ad alcuni operatori economici, ma deve riuscire, la futura amministrazione e spero che sia quella governata da me, dovrà riuscire a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini realizzando un'iniziativa di convivenza e profigua per tutti. Come vede questa competizione elettorale? Una corsa a sei candidati e come sarà anche la sua di campagna elettorale? Sì, siamo sei candidati ma io credo che effettivamente ne siamo di meno quindi ne siamo di meno, al ballottaggio andremo in due io credo sicuramente che la coalizione di centrosinistra andrà al ballottaggio e se non dovesse vincere in prima battuta meglio ancora sono molto fiduciosa. Come vedo la mia campagna elettorale? Io ho deciso di puntare l'attenzione esclusivamente sui contenuti del nostro programma ho deciso di comunicare molto con le persone qualunque iniziativa, qualunque incontro, qualunque intenzione la coalizione abbia con estrema trasparenza facilitando la partecipazione di tutti i cittadini proprio perché credo che questo dovrà essere il metodo futuro e la campagna elettorale è partita da diversi mesi sto notando che c'è molta attenzione, molta partecipazione soprattutto per le novità programmatiche che noi abbiamo messo in campo la mia campagna elettorale è quello che non vuole essere e cercherò di non farlo in tutti i modi non vuole essere un attacco alle persone ma un attacco alla politica sì quando serve sto notando che i metodi non sono sempre questi soprattutto mi riferisco anche alla mia persona io continuerò a comunicare con i cittadini le intenzioni programmatiche quindi cosa vogliamo fare per una città, una Civitanova Marche innovata policentrica, interconnessa dove i quartieri abbiano la loro visibilità, la loro importanza e abbiano tutti i loro spazi di aggregazione per il benessere dei cittadini grazie per questa intervista Mirella Paialunga, candidato sindaco del centro-sinistra per le amministrative di Civitanova Marche grazie grazie a voi per averci seguito